erano le tre dopo la mezzanotte camminava sola e mezza via da casa mia mi aiute già da sei mesi era la prima volta e mo che faccio? a chi chiedo un consiglio? mentre mia mi ritornava nei consigli delle amiche mie cosa aspetti? togiti il pensiero, io conosco uno bravo casualmente camminando mi ritrovai nel mio vicolo davanti a me c'era l'altarino della Madonna delle Rose l'affrontati, accusi, c'ha già fa? tu sai tutto, sai pure perché ho peccato, c'ha già fa? rispose, tu fai accusi eh, non rispondi e la gente ti crede, ha spon! i figli sono figli, ma ce l'hai rimasi ferma sicuramente se mi sarei voltata avrei visto che quella voce proveniva da un balcone, da un piccolo vicino oppure dalla finestra ancora aperta però pensai però pensai perché proprio in questo momento che ne sa la gente dei problemi miei è stata la Madonna forse lei è così si serve di noi il Charles Pond e anche quando mi dicevano di togli il pensiero era sempre lei che mi metteva alla prova io non so se fu io o la Madonna a fa così e i figli sono figli e in quel momento sono alba solennemente